Poccher di acquisti per il Bari. Dopo l'ingaggio del centrocampista centrale Busellato dalla Salernitana giunto a titolo definitivo, all'orizzonte l'arrivò in Puglia di Masi, in Prota, Tello e Capradossi. Per l'ex Ternana l'ingaggio a titolo definitivo per le altre pedine, la formula è quella del prestito. Ormai ad un passo inoltre l'innesto tra le fila del club di via Torrebella di Floroflores. Secondo i più l'atleta del centrocampo sarebbe felice di poter tornare ad indossare la casacca di Galletti. Occhio poi a Jacopo Desi. I biancorossi avrebbero appuntato il suo nome sul proprio taccuino al pari dell'Empoli, del Parma, ma anche del Perugia, del Pescara, della Spalle e del Frosinone. La mezzala riduce da una brillante campionato in prestito al Perugia, quindi particolarmente corteggiata da numerosi club. Asse Bari Avellino. Lo scambio in questo caso sarebbe tra Moculo e Tonucci sul tavolo un prestito con l'obbligo di riscatto nell'ipotesi in cui il Bari dovesse traguardare la massima serie. E alla voce cessioni. Con un comunicato il grasshopper rende noto di aver ingaggiato a titolo temporaneo dal Bari l'esterno sinistro Franco Ivoriano classe 96 Dumbia. Ai titoli di coda anche la presenza in biancorosso del secondo estremo portiere Stefano Gori. Il 21enne scuola Milan con un biglietto in uscita direzione propria cenza in C per lui contratto sino al 30 giugno del 2018. Al suo posto pare sia previsto De Lucia proveniente dal Catanzaro.